Un impedenziometro di ultima generazione. Significa che non serve più il plicometro. Basterà tenere in mano le due maniglie e in pochi secondi vi fornirà un report preciso sulla vostra composizione corporea. La massa muscolare, la massa grassa, il totale della massa magra e la quantità di acqua intra- ed extracellulare. Indispensabile per chi voglia fare una dieta perché in questo modo si possono fissare degli obiettivi precisi in termini di perdita di massa grassa e di mantenimento di massa magra. È molto utile per chi si allena o per il personal trainer in quanto è in grado di rilevare eventuali asimmetrie muscolari. È molto utile anche per scegliere gli integratori più utili al nostro organismo in quel momento. è un qualcosa di molto importante, l'angolo di fase, che è un parametro importantissimo per stabilire il grado di infiammazione del nostro organismo, perché tutti noi vogliamo restare giovani e sani.